Com'è cambiata la luce nel tempo? Com'è cambiato il nostro modo di comunicare? E pensate a come ci muoviamo oggi rispetto a ieri. Il mondo cambia, solo chi si evolve vince. Cambia il tuo modo di studiare, il valore della conoscenza con la tecnologia più potente al mondo. Pegaso, molto più di un'università. Musica Siamo nel bellissimo e famoso chiostro dell'antica chiesa di Santa Chiara in Napoli che come ogni anno da tradizione la Università Telematica Pegaso sceglie come location, come luogo per lo scambio degli auguri natalizi con gli amici e con tutti i suoi collaboratori. Presidente, Natale 2016 ormai alle porte. Come ogni anno è diventata ormai una tradizione per la Pegaso incontrare qui in questa storica location della chiesa di Santa Chiara gli amici e collaboratori per lo scambio degli auguri ma anche per fare un po' il bilancio delle iniziative della Pegaso per quest'anno che sta ormai evolgendo al termine. Sì, noi festeggiamo anche quest'anno con tutti i docenti e anche con il personale non docente. Un anno particolare, intriso di tante vicende. Siamo speranzosi comunque che l'anno 2017, l'anno 21, possa portare delle migliorie per tutti. E' proprio di questo che si parla. Siamo in un paese ormai diviso in casa. Una parte dell'Italia che vive di prerogative, di guarantigie e di posizioni dominanti. Un'altra Italia invece che vuole emergere, che vuole spingere sull'acceleratore ma che non ha grandi opportunità. Questi sono gli uomini nuovi, gli uomini che fanno sogni, che fanno grandi sogni per sé e per tutti. Beh, noi stiamo dalla parte di questi uomini, gli uomini liberi, questi giovani che cercano lavoro e che hanno grandi energie. E si parlerà quest'anno di disuguaglianze, del ruolo dell'università. Perché siamo convinti che l'università debba avere un ruolo centrale. Perché la formazione è il nervo su cui rinsaldare i rapporti tra la società civile e poter poi far ripartire un sistema paese che deve mirare innanzitutto alla crescita culturale e a un benessere diffuso. Presidente, parliamo di in particolare, è visto come un'eccellenza italiana. Cosa può fare di più nel 2017 la Pegaso? Può fare tanto. Molti dicono che bisogna prima cambiare il mondo per cambiare l'università. È un modo per dire che l'università è il mondo più autoreferenziale e granitico che c'è. Io sono convinto che cambiando l'università innanzitutto si cambia il mondo. Quindi al contrario. Quindi l'università ha un ruolo fondamentale. La Pegaso, in quanto università non di un territorio, ma di tutti i territori. Perché offre una formazione eteria nel concetto dove vuoi, quando vuoi. Quindi può fare tanto anche in virtù del fatto che si rivolge con la propria offerta formativa non solo ai giovani ma anche a coloro che lavorano. Quindi sono convinto che quest'anno, grazie a un corpo facente di altissima qualità delle nostre 65 sedi di esame distribuite su tutto il territorio nazionale, la Pegaso potrà raccontare un'Italia, un'Italia vincente, l'Italia del fare, l'Italia che vuole spingere sul digitale. Grazie mille. Il rettore della Università Telematica Pegaso, Alessandro Bianchi, che è anche qui per la consuetudine di scambiarci gli auguri. Un consuntivo di questo anno che ormai sta per terminare. Un consuntivo sicuramente positivo per tutti gli aspetti che riguardano l'attività dell'università, soprattutto quella didattica. Aumentano gli studenti, aumentano le sedi, aumentano i corsi di laurea. E quindi si ripropone, come era già nella tendenza dell'anno scorso, è un'università in crescita, quantitativa e qualitativa. E credo che l'anno prossimo vedremo risultati del lavoro fatto, e quindi sulla scia di quello che sta avvenendo. Tuttavia, stasera faremo anche una riflessione sul fatto che la nostra università, proprio per definizione, essendo un'università telematica, che quindi è in contatto con tutto il mondo, non è chiusa in un'aula o in una cappa d'avorio, come si diceva, in una torre d'avorio, come si diceva una volta, è sensibile e attenta ai grandi problemi che investono nella società contemporanea. Problemi come quello delle grandi migrazioni, problemi come quello del deterioramento ambientale, problemi come quelli della fame e della povertà. Grandi temi su cui il mondo sarà costretto a confrontarsi in questi anni e sui quali certo non possiamo pretendere di poter avere chissà quale ruolo in partita, però non possiamo neanche rimanere strani. E allora, nell'ambito delle cose che a noi spetta di fare, che è appunto fare buon insegnamento, tenere dei buoni corsi, fare della buona ricerca, fare dell'attività di carattere culturale e sociale, cercheremo di entrare in relazioni con queste grandi tematiche. Dottore Elio Pariota, direttore generale dell'Università Telematica Pegaso, una Pegaso che è sempre più innovativa, una Pegaso che è proiettata verso il futuro, verso un mondo internazionale, superando i nostri confini. Sì, noi crediamo che la vocazione di un Ateneo Telematico sia necessariamente ultradomestica e il mercato di riferimento è un mercato di massa e non di target. Fatta questa premessa, abbiamo intessuto e stiamo intessendo rapporti con molte università estere per calibrare l'offerta formativa della Pegaso International in chiave planetaria con contenuti online, calibrati appunto su scala internazionale. sta rispondendo molto bene, siamo presenti in aree come Cina, Russia, India, America Latina, Stati Uniti d'America, Riva Sud del Mediterraneo, Canada, Iran, insomma, c'è una prospettiva di crescita che va consolidandosi e sono convinto che da questo punto di vista una delle opzioni possibili e praticabili sia senz'altro questa dell'internazionalizzazione e la stiamo perseguendo con grande tenacia e con grande umiltà. Autorità, Presidente di Elborino, colleghi docenti, menzionale tutto dell'Università Tinematica Pegaso, Signore e Signori. Quest'incontro di Natalizio è tradizionalmente un'occasione per l'Università Pegaso per parlare di sé e dell'attività che ha svolto nell'anno accademico trascorso e dire cosa si propone di fare con quello che era appena iniziato nella cerca, nella didattica e negli eventi di carattere scientifico, culturale, sociale e economia. E' in questo mondo che la nostra Università comunica con un suo intorno di inferimento che, trattandosi di un'Università Tinematica, è certamente nato, vale a dire la sua cultura, ma è anche Roma e le altre 66 di diffuso sul territorio nazionale, ma è l'Europa e il mondo intero. E' insomma quel mondo globalizzato che nell'arco di solo i 60 anni è cambiato nel profondo. Sono cambiate le conoscenze scientifiche e le tecnologie, sono cambiate le relazioni fisiche e quelle economiche, i rapporti tra gli stati e quelli tra le persone, i modi del lavoro e i modi della comprensione. sono cambiati i nostri rapporti con la natura e con la società. E' cambiato perfino il nostro modo di pensare, di comunicare, in una parola di via. Un fenomeno, quello della globalizzazione, che osservato il giugiorno ha fatto fare passi da giugata all'unità, in molti campi e in molte direzioni, ma ha anche creato problemi nuovi di enorme entità che basta guardare cosa accade attorno a noi di giorno, siamo ben lungi dal saper risolvere. E' per questo motivo che mi sono chiesto se in questa occasione non avrei potuto, forse dovuto lasciare per un momento disparte numeri e racconti, tutti interi del mondo accademico, e aprire qualche riflessione su quello che accade intorno a noi e al di fondo. credo peraltro che questo sia in coerenza con quella che l'Università Pegaso ha assunto fin dall'inizio come sua missione, quella di non essere una torre e burmia di stampo metro accademico chiusa in se stessa. ma esattamente il contrario, un sistema aperto e dialogante, dialogante con ciò intorno, ossia, come abbiamo appena detto, con il mondo interno. Ecco perché ho pensato di dedicare queste mie brevi considerazioni a ricordare a tutti noi che cosa accadde in fronte di noi e soprattutto con quali grandi sfide il mondo in cui viviamo avrà a che fare nell'immediato futuro. A mio parere sono tre mesi di relazione. La prima è la sfida ambientale, vale a dire la sfida contro i mutamenti climatici, contro il consumo energetico e contro l'inquinamento. I dati di cui oggi noi rispondiamo su questi punti è che per questi aspetti il mondo sta andando verso un punto di rottura. Il riscaldamento globale, che è la causa prima di mutamenti climatici, sta creando fenomeni sempre più evidenti e disastrosi, da uno scioglimento di piacce nelle calotte polari fino alla desertificazione di immensi territori. Il consumo energetico è ancora affidato per la gran parte ai combustibili fossili, ossia quelli che generano le più pericolose emissioni gassose. L'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suono stanno deteriorando ogni giorno di più la qualità della vita, soprattutto nelle grandi aree urbani. A dicembre dello scorso anno, a Parigi, i 197 stati hanno sottoscritto un accordo per il contenimento del riscaldamento del pianeta sotto i due gradi, considerato un limite non valicante. Ma le misure alternative tendono ad arrivare, come abbiamo visto dagli esiti della recente conferenza di Karl Ketch, che un grande interrogativo si è aperto sulla posizione che assumerà su questo tema la nuova amministrazione degli Stati Uniti. Si tratta dunque di una questione vitale, vitale ma complessa e difficile da affrontare, che richiederà grande attenzione e grande impegno di tutti e a tutti i livelli. La seconda grande sfida è quella della povertà e della fama. Nel settembre del 2000, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite propone un solenne Millennium Declaration, una dichiarazione per l'interno millennio, con la quale impegniamo tutti gli Stati a dimezzare entro il 2015 il numero di poveri e di affamati da noi, che nel 1990 erano circa 3 miliardi. Vale a dire che 3 miliardi di persone diventano con meno di 2 dollari al giorno e con alti livelli di denunzioni. Quel risultato, quell'obiettivo è stato in parte raggiunto, con una diminuzione complessiva di circa un miliardo di persone che viveva in quelle condizioni. Ma l'aspetto più sconcertante e drammatico è che la diminuzione non c'è stata proprio nell'area maggiormente affritta per il fenomeno, vale a dire l'Africa sudsaria. Lì, a causa di un aumento puntuoso della popolazione, negli ultimi 15 anni i poveri e gli affamati sono aumentati di circa 170 milioni. dunque la situazione è addirittura peggiorata. E questo è un problema che l'Europa in particolare deve affrontare e che sarà la prima a pagarne le conseguenze sul terreno della terza sfida che voglio sottoporre alla nostra attenzione. È la sfida delle grandi migrazioni. Il rapporto dell'Agenzia per la Migrazione delle Nazioni Unite ci dice che nel solo anno 2015 65 milioni di persone sono andati via dai loro territori d'origine dirigendosi verso altri paesi. E questi viaggi della desperazione hanno causato una morte di 5 milioni e mezzo di persone. La ragione principale di questa epoca di migrazione sta nel contemporaneo aumento di popolazione dei paesi più sviluppati e di diminuzione in quelli cosiddetti sviluppati. Il caso più importante che possiamo vedere è quello tra l'Africa e l'Europa. Fino al 1950 la popolazione dell'Europa era più del doppio di quella dell'Africa. 500 e più milioni contro 200. Oggi, attualmente, la popolazione dell'Africa che è un miliardo e duecento milioni di persone è quasi il doppio di quella dell'Europa. E nel 2050, vale a dire tra pochi anni, quando arriveranno due miliardi e mezzo di persone sarà più del tre. in sostanza imporso un completo capoconcimento di pesi demografici che unitamente ad altri fenomeni come le guerre, le conseguizioni razziali e religiose, la povertà e la fame di cui abbiamo appena detto, avranno come conseguenza ulteriori massicce migrazioni dal continente africano verso quello europeo. I provvedimenti che finora possano essere più non europea sono palesemente inadeguati e bisognerà essere consapevoli che la mancata soluzione di questo problema pone una serie ipoteca all'essenza stessa della civiltà europea. Sono queste le persone che abbiano le grandi sfide che attengono il mondo intero e quello che circonda noi più da vicino in particolare. Ed è del tutto evidente che si tratta di sfide di dimensioni tali da essere fuori dalla portata di ciò che può fare una nostra come qualsiasi università. Ma è altrettanto evidente che si tratta di questioni che non solo non possiamo ignorare, ma di fronte alle quali non possiamo rimanere inediti. Allora la domanda è in che modo, come università, possiamo giocare un uomo in questa gigantesca partita? Direi sull'unico terreno che è più accessibile quello della cultura, che vuol dire fare in modo che in tutto quello che facciamo, in tutto quello che faremo qui davanti sia presente la consapevolezza di quello che accade nel macroposmo in cui siamo immersi e la convinzione di volo sfoggiare un uomo a partire dal sia più piccolo nostro microposmo. Possiamo farlo, ad esempio, offrendo alcuni particolari profili formativi. sul tema delle migrazioni abbiamo già attivo collegamento con l'istituto orientale il Fogoro Jean Mollet e sui temi ambientali abbiamo una scuola di rigenerazione ambientale. Bene, dobbiamo potenziare queste realtà e aggiungerne altre, come quella ad esempio che riguardano gli strumenti demografici. possiamo farlo anche orientando alcuni filoni di ricerca. Da questo punto di vista il nostro potenziale è notevole dato che abbiamo quasi 100 professori e ricerciatori che portano avanti a non mettere i loro progetti di ricerca. bene, dobbiamo coordinare forse meglio questa grande massa di attività in calabacua lungo dei filoni attirenti anche alle tematiche con cui ho fatto c'è. Possiamo farlo, infine, con le nostre attività di rilevanza esterna quale a dire i convegni, i seminari, le azioni magistrali, i forum, i social insomma tutto quello che ci permette di entrare in contatto e dialogare con il nostro intorno all'interferimento. Le attività di questo tipo che la nostra Università sboglie in tutte le segne, a produzione da Napoli a Roma, sono numerosissime. Probabilmente dobbiamo cercare di rendere più sistematiche e riconoscibili e anche in questo caso orientarli su alcuni filoni predefiniti. La nostra carta vincente sarà ancora una volta la vocazione alla comunicazione a distanza, la dimestichezza con i nuovi due e la disponibilità di una piattaforma privatica tra le più avanzate in campo nazionale. Grazie a queste attitudini e a questo potenziale credo che potremo giocare un uomo propositivo e significativo nelle difficili partite di cui ho parlato. Bene, queste sono le brevi, forse anche i rituali, mi auguro non inutili considerazioni che ho pensato di sboggiare in questa occasione. E nel ringraziare per l'attenzione che mi avete prestato, formola a tutti i più sentiti auguri del Buon Natale e per un felice e profico il 2016. Carissimi amici, egregi professori, signori autorità civili e militari, Natale arriva quest'anno in un contesto davvero particolare. Ed è quasi che in ragione di una conferenza stratificata e accumulata giorno dopo giorno, si fa fatica a ritrovare nell'atmosfera di Natale un messaggio di speranza e di rinascita che accompagna sempre questi giorni. Le disuguaglianze sociali, la mancanza di prospettive e con una sfiducia generale delle istituzioni, creano un nuovo scenario, inedito per le scelte di vita individuali e pongono una serie di sfide mai affrontate. Il Natale allora diventa un'importante occasione di riflessione, di comprensione e di tolleranza verso le persone che vivono disagi economici, lavorativi, di sofferenza fisica e non da meno di integrazione nazionale. Il nostro Paese inizia a mostrare un popolo che oserei definire separato in casa, uno ricco di tutte le prerogative e che vive e pensa solo alla rendita di posizioni, di vantaggi e guarigioni, che ritiene che nulla debba cambiare e che le cose vanno a rinascita. Un altro che invece ha sofferenze, che cerca risperatamente spazio e meritocrazia e che spinge sull'acceleratore anche se troppe volte, purtroppo, è privato nelle giuste opportunità. Ecco, io sto con questi ultimi, con gli uomini nuovi, con quelli che hanno sogni, anzi grandi sogni per sé e per tutti. Inizio con un appello a tutti voi. Cominciamo insieme un grande progetto di solidarietà che parte dall'idea che tutti gli uomini e le donne possano e debbano vivere con il fine ultimo di diventare felici. Partiamo con creare un'università aperta, democratica, che possa dare fiducia a tutti, senza sbattaggiare solo una certa elite sociale, senza la volontà più o meno dichiarata di ammaliarsi centri di potere, ma al contrario, che possa dare riconoscenze e valori a coloro che hanno indizioni e che credono nel sistema paese e sono determinati a conquistare il mondo e a condividerne le cose più belle anche con gli altri. Il nostro Ateneo si riferisce molto più di un'università perché vuole cambiare, vuole innovare, inventare economia. È il luogo degli uomini nuovi, delle nuove sperimentazioni e delle opportunità per tutti. In un mondo a due velocità diventa imperativo per l'università abbandonare i canonici modelli di insegnamento autoreferenziali, più gestati e settoriali. Qualcuno dice per cambiare l'università devi prima cambiare un mondo. Noi diciamo che per cambiare il mondo devi prima di tutto cambiare un'università. È dall'università che parte il cambiamento sociale. Sono la cultura e la conoscenza che operano il cambiamento delle future generazioni. Ed è proprio all'interno dell'università che oggi si avverte più che mai bisogno di una maggiore inclusione e giustizia con autori interdisciplinari che favoriscono l'integrazione e non la disversione fra gli studenti, ma che oggi invece, ancora, rispecchiano la divisione sociale tra ricchi e poveri, offrendo diverse e iniguali possibilità di accesso alla formazione. Nell'ultimo secolo, il secolo dei grandi progressi tecnologici, le università non ci sono cambiate per la maggior parte. Persino l'architettura è rimasta la stessa, grandi facciate, aule, scalinate imponenti, ma nessun spazio per l'innovazione. Viviamo un mondo dove si è bello in maniera sempre maggiore la divisione, il divario tra il fisico e il virtuale. Fisico inteso come limitante, limitato e limitativo. Rispetto all'universo della rete abbiamo infinite possibilità. L'università, probabilmente mai come oggi, nella sua storia di istituzione millenaria, ha avuto la necessità impellente, se non l'obbligo di operare così tanti cambiamenti in così breve tempo. Mai, come ora, l'apprendimento deve applicare questo sapere di formazione più flessibile ed adatto all'ecosistema sociale, ritalzato da un'accelerazione tecnologica ogni giorno più spinta. E' la nostra amice è proprio questa, l'università del cambiamento. Un cambiamento che possiamo definire come una vera rivoluzione, uno stravolgimento che prima di tutto filosofico e di principio, e poi strutturale, metodologico, di strumenti e finalità. e che a ragione ci qualifica come gli alfieri di un grande progetto, volto ad assicurare la migliore innovazione possibile per gli studenti di tutta età, etnia e nazionalità. Abbiamo creato in dieci anni un nuovo modello del tutto differente da quello degli altri. Un'università a distanza già esistente, è vero, ma nessuno si è adoperato come la nostra nei cambiamenti della società. Abbiamo cancellato l'idea del campus, l'abbiamo affrancato, reinventato e riproposto pensando di assorbirlo in tutt'uno con l'idea di un'università a chilometro zero. Abbiamo quindi creato 65 segni in Italia aperti a tutti gli studenti, un luogo dove i docenti con oltre 800 incontri seminariali e sfumativi, incentrati sui temi più attuali, incontrano e trasmettono le proprie competenze, ma non da un legge, in modo tradizionale, ma in un continuo confronto che porta gli studenti a fare propri gli argomenti affrontati con il docente e a scoprirli nuovamente ogni volta in una costante attività di scambio docente e studente, che ha come punti qualificanti il proprio solving, lo sviluppo delle abilità e del pensiero critico, l'acquisizione di nuovi skills per garantire a tutti gli strumenti e almeno negli strumenti più efficaci. La formazione non è in maniera anestetizzante, ma attraverso una raffinata tecnologia che permette uno studio in tutta libertà, calibrato sulle diverse necessità, tempi e problematiche dello studente, con una formazione realmente uscita addosso con un avvio sartoriale. Una tecnologia che diventa inclusiva della somma di tutte le competenze e le esperienze di un sistema formativo che garantisce un'assistenza più efficace e più vicina di tutte. Una tecnologia che porta lo studente a superare i problemi ed acquisire la consapevolezza che in questo nuovo mondo nulla è impossibile. Esatto, nulla è impossibile. E questa è la certezza che la nostra università deve essere in grado di infondere a tutti gli studenti. in un mondo della solitudine, un mondo dove l'incertezza e la paura si insivano nelle amine delle persone, il cittadino diviene quindi sorvegliante e insegnante di se stesso e non riconosce più la guida in esclusione. Affinché mai più possa vivere l'incertezza e lo sviluttimento di un passeggero in un volo di linea che scopre che la cabina di pilotaggio in vuota è necessario da di quindi una guida che gli indichi la strada giusta, che noi gli insegni paure che non lo disorienti con pregiudizi di solito. Nessuno crede più nelle istituzioni passate perché nessuno crede che qualcuno possa migliorare la loro vita assicurando l'amore, la protezione e la felicità. E' nel web che le persone cercano di costruire il loro mondo secondo la legge che porta a sostenere. Io voglio le cose come Dio le desideri. In questo mondo la rete si è dunque eserti da paure, da barriere, da immeranza. Tutti si sentono alla pari e liberi di fare e non fare, provare, uscire e sbagliare. con il salvocondotto che, se qualcosa non piace, basta prendere semplicemente e tagliarci. Sia autori ed attori, sia tutti creativi e liberi. Ecco, la nostra università è in web, abita nel web. E' potenza della rete incentrata proprio su questo futuro. Quello della libertà e della conoscenza immabita in cui si fa spazio il sapere in una combinazione unica. sapere teorico, saper fare e saper vivere. Un'università che prepara le cose modelle, le nuove forme di aggregazione e comunicazione. Il problema in questa nuova società dei liberi non è più come avere accesso alla conoscenza. semmai è quello di sapersi orientare in un ambiente troppo grande e dispersivo, attraverso l'acquisizione di competenze particolari e di una vista attenta e selettiva. E' questa la nostra università, un'infrastruttura capace di mettere in relazione le tante potenzialità presenti nella società dei liberi, in grado di amplificare la fiducia nella vita e di far emergere il talento e la capacità. E' con animo fiducioso nelle future generazioni che penso si possa costruire quel grande rinnovamento sociale che tutti abbiamo bisogno. Esprimo la mia riconoscenza e gratitudine per la sentita partecipazione. Vogliate inoltre trasferire alle vostre famiglie il mio più affettuoso ringraziamento per la fiducia e l'impegno che profondete in questo Ateneo. Con l'augurio che questo Natale possa portarvi le cose più belle che voi desideri. Ancora auguri a tutti voi e alle vostre famiglie. Come è cambiata la luce nel tempo? Come è cambiato il nostro modo di comunicare? E pensate a come ci muoviamo oggi rispetto a ieri. Il mondo cambia. Solo chi si evolve vince. Cambia il tuo modo di studiare. Il valore della conoscenza con la tecnologia più potente al mondo. Pegaso. Molto più di un'università.